Come vi stavo già preannunciando appunto questa sera, il titolo della conferenza di questa sera è il dialogo sulla teoria dell'attività generale e sulle sue implicazioni astronomiche, tra parentesi, usando pochissime formule. Vuole appunto essere un dialogo sulla teoria, la formulazione richiederebbe un tempo molto più lungo e richiederebbe la conoscenza di formalismi complessi che neanche io dopo 30 anni padroneggio più così bene. Ho riportato qua due frasi sulla relatività generale dette da due persone, uno è Max Born che è uno dei fisici della meccanica quantistica, nonché nonno di Oliver Newton-John, che disse che sebbene lui appunto si fosse occupato di meccanica quantistica, che come vedremo in parte più avanti è una teoria che in qualche modo compete, collide, non c'è totale affinità con la teoria dell'attività, disse comunque che la teoria dell'attività generale è la più sorprendente combinazione di penetrazione filosofica, intuizione fisica e abilità matematica. E Einstein disse a Charlie Chaplin, lei è famoso perché è capito da tutti, io sono invece famoso perché pochi mi comprendono. Il tentativo di questa sera, come stavo pronunciando, è che io che non sono famoso sto facendo questa sera il tentativo che la maggior parte di voi capisca quello che dirò o meglio il mio tentativo sarà che tutti riescano a capire la maggior parte, non tutto probabilmente, di quello che racconterò ma in maniera tale che anche non capendo tutto si capisca la parte importante della teoria della relatività e soprattutto il senso della teoria. In queste due frasi secondo me sta nel primo la bellezza e la profondità della teoria della relatività. Io secondo me la teoria dell'attività generale è la più bella teoria fisica che sia stata scritta ed è secondo me una delle più belle opere d'arte dell'uomo. Purtroppo non è come la gioconda o la pietà di Michelangelo per cui è sufficiente guardare e uno riesce a capire la bellezza. Guardare la teoria della relatività bisogna appunto avere gli strumenti per guardarla ma esteticamente è di una bellezza eccezionale. La seconda frase appunto sta nella difficoltà. Non è una teoria banale appunto, non è una teoria banale concettualmente. Il nostro segretario Marco Perrando è solito dire che secondo lui è più complicata la teoria dell'attività ristretta rispetto alla teoria dell'attività generale. Io dico che rispetto al senso comune la teoria dell'attività ristretta è meno banale effettivamente rispetto alla teoria dell'attività generale perché sovverte la teoria dell'attività ristretta appunto concetti del senso comune. Però la teoria dell'attività generale è concettualmente più difficile e profonda concettualmente rispetto alla teoria dell'attività ristretta. Quindi adesso comincerò a bombardarvi con un po' di concetti anche se tenterò che il bombardamento sia il più blando, il più lieve possibile. Partiamo adesso con la parte più spessa che appunto è la parte della relatività generale, cioè i concetti e il senso della teoria e ora che siete freschi e poi nella seconda parte della serata vedremo gli aspetti astronomici della teoria. Da dove partiamo? Partiamo da dove è partito Einstein. Einstein è partito dall'esperimento di Galileo che non si sa nemmeno tra parentesi se sia davvero avvenuto, forse avvenuto su dei piani inclinati, non dalla torre di Pisa, ma diciamo la storia ci tramanda che Galileo fece gli esperimenti di gravitazione dalla torre di Pisa facendo cadere due gravi, cioè una palla di legno, una palla di ferro oppure due palle di dimensioni diversa e verificò e dimostrò che le palle arrivavano nello stesso tempo a terra. Se noi potessimo fare il vuoto al di sotto della torre di Pisa, potessimo lanciare una piuma, ci accorgeremo che sia una palla di ferro, una palla di legno, una piuma o chi che sia lasciate cadere contemporaneamente che arrivano a terra contemporaneamente. E questo è totalmente diverso da quello che diceva e pensava Aristotele, che pensava che corpi pesanti cadessero a terra più velocemente dei corpi leggeri. Ci sono persone che ancora adesso non hanno interiorizzato l'esperimento di Galileo che ormai ha quasi 400 anni e pensano che effettivamente un corpo più pesante arrivi a terra prima. Invece non è così. Cioè tutti i corpi quindi che partono da una velocità che è uguale a zero arrivano a terra con la stessa velocità finale. Questo cosa significa? Significa che hanno tutti la stessa accelerazione. Come lo scriviamo questo? Lo scriviamo così. Questo è una delle poche formule che farò vedere. Un corpo che cade in caduta libera cade e è sottoposto a una certa forza. La forza, secondo la seconda legge di Newton, F uguale MA. Vedete, nella prima parte dell'equazione c'è scritto MI e A. MI significa massa inerziale. Cioè un corpo che cade, cadrà con una forza proporzionale alla sua massa inerziale e alla sua accelerazione. Ma un corpo sulla Terra sarà sottoposto anche alla forza dovuta alla trazione gravitazionale della Terra, secondo la legge di gravitazione universale di Newton che dice che la forza è M, la massa del corpo, per M grande, che è la massa della Terra, per G, che è la costante di gravitazione universale, diviso la distanza al quadrato tra il corpo e il centro della Terra. Siccome i corpi, un corpo che cade deve essere sottoposto, appunto, soddisfare sia MA a MG per G per M uguale, su R quadro, MA deve essere uguale a MG per G a M. su R quadro, come ho scritto. Allora, se noi dividiamo quell'equazione per MI, cosa otteniamo? Che A è uguale alla massa gravitazionale, diviso la massa inerziale, per Gm su R quadro. Ma G è una costante. M è la massa della Terra. R è la distanza che c'è tra il corpo e la Terra. Allora, se, come abbiamo visto prima nell'esperimento di Galileo, l'accelerazione è uguale per tutti i corpi, MG diviso MI è una costante universale, cioè è una costante che vale in tutto l'universo. Se noi fossimo sulla Luna, A sarebbe diversa, ma questa equazione varrebbe sempre, MG su MI sarebbe costante. Nella fisica, la scoperta di una costante universale spesso causa lo sviluppo di una teoria importante, di una teoria pesante. La teoria della relatività speciale derivò dalla costanza della velocità della luce. Come abbiamo visto in questa sede ormai cinque anni fa, prima si pensava che la velocità della luce fosse c nell'ettere e che quindi variasse secondo la relatività galileiana, se il corpo si muoveva, poteva essere c più v e c meno v, Einstein assume che la velocità della luce, e lo dimostra in qualche modo in realtà è un postulato, sia uguale a c. Quindi la nascita, la costanza di c ha fatto sì che nascesse la relatività speciale. Si può considerare che la teoria quantistica ebbe origine dalla costante di Planck, H di Planck, e la costante universale MG su MI è la chiave per la soluzione del problema della gravitazione. Einstein parte da lì e scrive, in un campo gravitazionale tutti gli oggetti hanno la stessa accelerazione, quello che abbiamo visto prima. Si può interpretare questa legge come la legge di equivalenza tra la massa inerziale e la massa gravitazionale, cioè MI su MG è costante e in particolare uguale a 1, cioè la massa inerziale e la massa gravitazionale sono la stessa cosa. In quegli anni, scrive, rimasi colpito dalle sue importanti implicazioni. Quella legge fu per me motivo di grande riflessione, intuivo che essa dovesse contenere la chiave per approfondire la nostra comprensione dell'inerzia e della gravitazione. La chiave per approfondire la comprensione dell'inerzia e della gravitazione è un modo elegante per Einstein per dire che quella era la chiave per arrivare a formulare la sua teoria della relatività generale, per formulare una grande teoria sostanzialmente. E quindi noi adesso ci soffermiamo un po' su questo concetto, sull'equivalenza tra massa inerziale e massa gravitazionale, sul principio di equivalenza. Vedremo un esperimento ideale, ideato appunto da Einstein, che poi ci condurrà concettualmente alla teoria della relatività generale. Einstein da questa equivalenza ha approfondito totalmente e rispetto a quello dice, ma se quindi, come dice giustamente Roberto, questo è un concetto fondamentale, che cosa ne deriva da questo? Era un concetto già in qualche modo conosciuto. C'erano degli esperimenti, allora c'era Oetvoss ad esempio, che aveva fatto degli esperimenti per ricavare, ma anche altri fisici, quale fosse la differenza, se ci fosse differenza e quale fosse la differenza tra la massa inerziale e la massa gravitazionale e se era arrivato, ora non ricordo, ma a fattori intorno già 10 alla meno 10, cioè significava che erano uguali a meno di una parte su 10 miliardi, che è l'errore sperimentale sostanzialmente. Einstein dice, questo è così, io lo prendo come fondamento e a questo punto, con questo postulato, se vogliamo un po' come la costanza di C della velocità della luce per la velocità ristretta, io su questo ragiono e vediamo che cosa tiro fuori. E il suo primo esperimento ideale è stato questo, anzi due esperimenti ideali, in un ascensore e se vogliamo in una scatola sostanzialmente. Allora non c'erano ancora le navicelle che andavano ovviamente nello spazio, siamo intorno al 1907, Einstein ha elaborato la teoria della relatività ristretta nel 1905 e sostanzialmente l'anno dopo ha iniziato a ragionare su questo e dopo circa 10 anni è arrivato a elaborare la teoria della teoria generale. Questo tra parentesi dall'idea della complessità, Einstein ha impiegato due mesi e mezzo tre a elaborare la teoria della relatività ristretta, ha impiegato quasi dieci anni a elaborare la teoria della relatività generale. E ha pensato questo tipo di esperimento ideale, dice io sono in un ascensore, che poi ripeto si potrebbe dire in una scatola, di là c'è l'ascensore che è sulla terra, lo scienziato lascia cadere un oggetto, una mela avrebbe da pensare nel caso di Newton e vede che questo oggetto accelera verso il basso. Poi anche se allora le navicelle non c'erano ancora, dice io mi trovo in un ascensore nello spazio in cui non c'è gravità, una navicella accende dei razzi con un'accelerazione che è uguale a g, cioè che è uguale all'accelerazione che noi sentiamo sulla terra e una persona fa una domanda allo scienziato, ma tu sei fermo sulla terra o stai viaggiando nello spazio su una navicella che accelera con la stessa accelerazione. Einstein risponde non saprei, nel senso che non so, non so ma non lo posso definire, non c'è assolutamente differenza, sta lì la parte importante. Io non posso capire se sono sulla terra e quindi sento l'accelerazione della terra o sono nello spazio e c'è qualcuno che mi sta accelerando nello stesso modo. Il secondo equivalente esperimento ideale è sempre in questo ascensore che è appunto una scatola e io sono nell'ascensore all'ennesimo piano di un grattacielo, qualcuno taglia i cavi che sostengono l'ascensore e io cado verso il basso e non sento assolutamente nessuna forza di gravità. Il campo gravitazionale viene completamente annullato dal sistema di riferimento dell'ascensore. Mi trovo in mezzo alle stelle in un punto lontanissimo in cui posso assumere che la gravità sia zero, allora a quei tempi si parlava di stelle perché non resisteva ancora al concetto di galassia, il concetto di la scoperta della galassia avviene con Hubble sostanzialmente nel 1929, quindi siamo ancora prima, ma diciamo nello spazio interstellare in assenza di gravità e anche lì qualcuno può fare la domanda dello scienziato ma tu stai cadendo in un campo gravitazionale o sei in assenza di campo gravitazionale? La risposta è non saprei. Quindi le due situazioni sono assolutamente equivalenti. E allora arriviamo al principio di equivalenza che si può scrivere in tanti modi, si può raccontare diciamo in tanti modi. Io l'ho scritto così sostanzialmente come si racconta, come si racconta in libri, ma ci possono essere sfumature diverse. Comunque uno è quello che nasce dal primo esperimento dell'ascensore. Non c'è modo di distinguere gli effetti della gravità da quelli prodotti da un sistema di riferimento accelerato. Cioè se io mi trovo qui o mi trovo nello spazio e venga accelerato nel suo modo io non sono in grado di sapere se sono sulla Terra un sistema accelerato o sono nello spazio e mi sta accelerando qualcuno. L'altra affermazione che è in qualche senso ancora più importante è sempre possibile trovare in una regione locale un sistema di riferimento, l'ascensore di Einstein che sta cadendo o che è nello spazio interstellare in cui è possibile eliminare tutti gli effetti della forza gravitazionale. La gravitazione può essere quindi localmente eliminata in un sistema di riferimento. Questo fatto è un'importantissima proprietà della gravitazione. non esiste altra forza, le forze in natura sono sostanzialmente quattro, la forza gravitazionale, la forza elettromagnetica, la forza forte e la forza debole. Solo la forza gravitazionale può essere eliminata localmente da un sistema di riferimento. E arriviamo a questo punto al cuore che è concettualmente complesso della teoria dell'attività. Allora, un sistema di riferimento inerziale può solo essere rappresentato da sistemi inerziali locali, cioè l'ascensore di Einstein che sta cadendo. Qui questo sistema inerziale è ancora più forte e tra virgolette più inerziale del sistema di riferimento della nave dissalviata nella teoria, nel dialogo sui massimi sistemi di Galileo. Qualcuno conoscerà o qualcuno ricorderà, l'avevo raccontato, nella relatività galileiana Galileo aveva scritto un bellissimo trattato con linguaggio ovviamente di quei tempi in cui diceva se io mi trovo su una nave e la nave si muove. Ci sono, non so, i pescetti, diceva lui, che sono all'interno di un acquario e si muoveranno come, sia quando la nave è ferma o quando si sta muovendo di moto uniforme, come se la nave fosse ferma. Se io accendo una candela, il fumo della candela andrà verso l'alto, sia che la nave sia ferma, sia che sia in movimento, quindi a quel punto era nata la relatività galileiana, cioè la quiete o il moto di riferimento uniforme, non esiste la quiete assoluta, ma la quiete e il moto di riferimento uniforme sono due concetti equivalenti. Se io sono su una nave e salto non mi ritrovo, se la nave si sta muovendo più in là, ma mi ritrovo nello stesso punto. Però in quel caso, se io lascio cadere un grave, sono sulla terra e quindi un sistema inerziale, se vogliamo, in una direzione, ma non nella direzione perpendicolare al moto della nave, dove c'è la terra. Nel caso invece della relatività generale, Einstein definisce un sistema inerziale locale dove, che è veramente inerziale, cioè dove c'è assenza di gravità. E allora, sistemi inerziali locali, posti in differenti punti, possono muoversi in moto relativa, accelerato l'uno rispetto all'altro. La gravitazione fissa le relazioni tra i vari sistemi inerziali locali. La terza affermazione, che secondo me è, se vogliamo, la più importante concettualmente che ci porta poi alla teoria della relatività, che è impossibile definire le proprietà dello spazio-tempo a priori. Cioè si deve tenere conto delle interazioni con la materia. Non esiste lo spazio-tempo in sé e di per sé, ma lo spazio-tempo esiste in quanto e in funzione della materia presente. Parlo di spazio-tempo perché all'interno della relatività generale trova e deve trovare spazio la relatività ristretta in cui, invece del concetto di spazio, si parlava già dello spazio-tempo, cioè le tre dimensioni spaziali e la quarta dimensione che è il tempo. E quindi, e qui arriviamo all'enunciazione della teoria che vedremo nella prossima diapositiva, le relazioni e quindi le equazioni dovranno essere non solo tra grandezze fisiche, forza, momenti, eccetera, ma tra grandezze fisiche e grandezze geometriche, perché c'è una relazione tra lo spazio-tempo e la materia. Questo è il grande fondamento della relatività generale. Il risultato è questo. Questa è l'equazione di campo, è l'equazione della relatività generale. A sinistra c'è lo spazio-tempo prima dell'eguale, cioè ci sono, c'è la parte relativa allo spazio-tempo, a destra la materia. R, a sinistra, è il tensore di Ricci, è il tensore che dà la curvatura dello spazio-tempo. G è un tensore metrico, che sono tutte e due grandezze usate per descrivere le proprietà dello spazio-tempo. A sinistra questo, a destra c'è il tensore energia-momento, cioè la grandezza che descrive le proprietà fisiche. C'è quell'uguale, significa che le proprietà fisiche sono legate alle proprietà geometriche e le proprietà geometriche sono legate, mi viene da dire indissolubilmente, cioè l'universo è fatto così, secondo la rappresentazione di Einstein, che però, come vedremo, ha trovato conferma n volte, sono legate indissolubilmente tra di loro. E di fatti Einstein disse lo spazio-tempo non può essere considerato qualcosa di separato dagli oggetti reali che hanno, entità fisica, qualcosa esistente di per sé. Quindi non oggetti reali nello spazio, ma corpi che rivendicano l'estensione spaziale. La concezione di uno spazio vuoto perde così ogni significato. Questa frase può essere considerata la sintesi scientifica e filosofica dell'opera di Einstein. Ce la interiorizziamo un momento perché questo è, ripeto, il fondamento, cioè c'è un'interrelazione tra i corpi e lo spazio-tempo, tra lo spazio-tempo e i corpi, o, come ho scritto nella diapositiva successiva, le masse dicano lo spazio-tempo come deformarsi, lo spazio-tempo dice alle masse come muoversi. In quell'equazione che avete visto, a sinistra c'erano appunto le proprietà geometriche, a destra le proprietà della materia, indissolubilmente legate, quindi le masse, ripeto, dicano allo spazio come si deve deformare, lo spazio dice alle masse come muoversi. Qui c'è una rappresentazione in 2D, che in realtà dovrebbe essere in 4D, che, appunto, essendo una rappresentazione, non è veritiera, ma fa capire che cosa vuol dire. Questa è la nostra Terra, la nostra Terra, avendo una massa, deforma lo spazio-tempo. Queste sono le tessiture dello spazio-tempo. Vedete che in lontananza rispetto alla Terra, lo spazio è euclideo, cioè le distanze tra questo punto e questo, sono uguali a questo e questo e questo e questo, quando ci avviciniamo alla massa, queste distanze non sono più uguali perché lo spazio-tempo si deforma. Con questo ho sostanzialmente tentato di banalizzare il più possibile e ho terminato la parte sintetica relativa alla teoria vera e propria. Sono anche di più, ma diciamo, io ho riportato queste cinque evidenze astronomiche che dimostrano che la teoria della realtà generale è una teoria che funziona. La deflessione della luce, la norma alla precessione del periodo di Mercurio, il redshift gravitazionale, le onde gravitazionali e l'espansione dell'universo che, come disse Einstein, è stato il suo più grande errore. La deflessione della luce. La deflessione della luce, se noi andiamo, torniamo un momento qua, abbiamo detto che lo spazio-tempo si deforma in presenza di una massa e quindi anche la luce che dovesse passare vicino a una massa, più la massa è grande, più la massa deforma lo spazio-tempo, più la luce dovrà anche deflettere, perché la luce seguirà, non andrà in linea retta, perché non esiste la linea retta. La linea retta è quella seguita dalla curvatura dello spazio-tempo, quindi la teoria dell'attività predice che in vicinanza di una massa la luce deve deflettersi. E ovviamente, essendo una teoria non qualitativa, ma come tutte le teorie fisiche, una teoria quantitativa, predice anche quanto si debba deflettere. E allora, nel 1919, un team di astronomi ha sfruttato un'eclisse totale di Sole per verificare se la teoria di Einstein fosse o meno corretta. Una in Brasile, vedete questa è la copertina, è una pagina di The Illustrated London News del 22 novembre 1919. Il 29 di maggio del 1919, quindi quasi esattamente cent'anni fa, c'è stato il primo tentativo di verifica della teoria dell'attività generale. C'era un'eclisse di Sole e quindi c'era la possibilità di vedere con il Sole eclissato le stelle in vicinanza del bordo del Sole. Quindi ci sono state due spedizioni, una in Brasile, una, vedete qua, nell'isola che si chiama Principe a largo dell'Africa. Se la teoria è corretta, deve succedere che appunto, se noi guardiamo una stella che sia prospetticamente vicino al Sole, il Sole, come quella diapositiva che vi ho fatto vedere, deve deformare lo spazio-tempo. Allora, se la stella emette la luce là, quando arriva vicino al Sole, curva e arriva a noi facendo una traiettora curva. Noi la vediamo proiettata come se fosse in linea retta e quindi dobbiamo misurare uno scostamento tra quello, da come appaiono le stelle in assenza del Sole, cioè in assenza di campo gravitazionale tra noi e le stelle e quando davanti alla stella c'è il Sole. La teoria della relatività generale di Einstein predice che in vicinanza della superficie del Sole la deflessione deve essere di un secondo virgola settantacinque secondi d'arco, 1,75 secondi d'arco. I valori misurati dalle spedizioni di Eddington che era il capo della spedizione di entrambe le spedizioni furono 1,61 secondi d'arco più o meno 0,40 a Principe e 1,98 più o meno 0,16 in Brasile. Quindi la media delle due misure era sostanzialmente 1,78 con gli errori la teoria di Einstein predice 1,75 vedete che effettivamente si è notato quindi e si è misurato che la luce era deflessa ed era deflessa tanto quanto prediceva la teoria di Einstein e quindi da allora si è cominciato a pensare che effettivamente la teoria fosse una teoria corretta. Ancora sulla deflessione della luce questa è di nuovo un'evidenza sperimentale della deflessione della luce che cosa succede che se noi abbiamo una massa concentrata qua una galassia un ammasso di galassie vicine tra virgolette e un quasar o una galassia lontana cosa succede quando la luce di questa galassia arriva un po' come i ciclisti al giro di Italia che si trovano di fronte a una rotonda e c'è chi passa di qua e chi passa di là della rotonda i fotoni se in questo punto qua ci sarà alcuni passano di qua e altri passano di qua rispetto allo spazio-tempo deformato quindi noi vedremo sdoppiato e anche ingrandito perché questa massa funge anche dall'ente gravitazionale un oggetto che è più lontano questa è un'altra evidenza della della relatività generale questo vedete questa è una fotografia queste sono galassie vicine queste queste sono galassie lontane che sono state deformate e stiracchiate e visibili di qua e di là dalla lente gravitazionale causata da questo ammasso di galassie adesso passiamo al secondo alla seconda evidenza sperimentale l'anomala precessione del moto di Mercurio Mercurio ha una precessione il moto di Mercurio cosa significa? che Mercurio nella sua rivoluzione attorno al sole fa un'ellisse come tutti i pianeti che girano attorno al sole ma questa ellisse poi si dice precede cioè il movimento è così e poi quando arriva qua fa così fa così e fa così cioè ruota sostanzialmente questa precessione era nota da più o meno dal 1800 o almeno dalla metà del 1800 e si credeva che questa precessione fosse dovuta a a un altro pianeta visibile non visibile tra Mercurio e il sole nel senso che la precessione in gran parte è dovuta al fatto che il moto di Mercurio come il moto di tutti i pianeti ma quello di Mercurio in maniera più evidente è influenzato dagli altri pianeti che ci sono cioè la precessione è in gran parte dovuta al fatto che Mercurio risente dell'attrazione del sole quindi gira attorno al sole ma poi precede perché c'è Venere dopo di lui c'è la Terra c'è c'è Marte e c'è Giove però la la meccanica classica la meccanica razionale classica dell'astronomia è precisa ed è in grado di misurare e di prevedere che l'effetto della Terra di Marte e degli altri pianeti doveva causare una precessione di un grado 32 primi e 27 secondi ogni 100 anni il valore misurato invece osservato è un grado 33 primi 20 secondi cioè c'è una differenza di 43 secondi a secolo che è piccola ma esiste ed è misurabile e si ripete allora nel 1800 Leverrier che aveva predetto con successo l'esistenza di Nettuno che aveva perché aveva misurato le perturbazioni della robita di Urano e aveva detto ci deve essere un altro pianeta dopo Urano quel pianeta per avere queste per dare queste perturbazioni deve trovarsi là nel 1846 telescopi europei sono stati puntati là dove diceva Leverrier e a distanza di circa un grado da quello che lui aveva previsto è stato scoperto Nettuno allora Leverrier ha detto beh allora qui c'è un altro pianeta le aveva già dato un nome perché doveva essere interno rispetto a Mercurio le aveva chiamato Vulcano e aveva calcolato dov'è che si dovesse trovare si è tentato per anni per anni e per decenni di trovare Vulcano ma Vulcano non esiste il che significa che non c'è un altro pianeta che causi questa anomala precessione però la precessione c'è la teoria dell'attività generale prevede una precessione di 43 secondi a secolo a differenza rispetto a a quello che viene dedotto con gli altri pianeti quindi questa è di nuovo un'evidenza secca della validità della teoria della relatività la terza è il cosiddetto redshift gravitazionale che cos'è redshift gravitazionale quando si misura la frequenza della radiazione ad esempio emessa da un atomo di idrogeno sulla superficie del sole si nota che è minore di quella emessa da un atomo di idrogeno in laboratorio mettiamo che questo sia lo spettro qui c'è poniamo la riga dell'idrogeno se io faccio lo spettro dell'idrogeno in laboratorio vedrò una cosa fatta così se invece faccio lo spettro dell'idrogeno emesso dal sole trovo che questa ad esempio questa riga ha una frequenza inferiore frequenza inferiore significa lunghezza d'onda superiore perché sono inversamente proporzionali la frequenza e la lunghezza d'onda e quindi se la lunghezza d'onda aumenta si dice che è spostato verso il rosso perché il rosso sapete è una frequenza è una lunghezza d'onda più elevata rispetto al giallo al verde e al blu e quindi la frequenza quindi la frequenza diminuisce la lunghezza d'onda aumenta e quindi si sposta verso il rosso in inglese spostamento verso il rosso è red shift e quindi si parla di red shift gravitazionale cosa succede cosa si può dire che succede concettualmente siccome il campo gravitazionale del sole è più intenso del campo gravitazionale della terra quando un fotone dal sole deve risalire quel campo gravitazionale andare verso la terra perde energia ma come la perde energia se fosse se fosse un oggetto un oggetto massivo noi potremmo dire che scriviamo l'energia come un mezzo mv quadro la sua energia cinetica se perde energia e mantiene la massa significa che scende v diminuisce la velocità ma il fotone va alla velocità della luce e quindi non può perdere velocità perché per definizione ma correttamente per natura la luce è c in tutti i sistemi di riferimento è sempre uguale a c e allora cosa succede se perde energia ma non può perdere velocità siccome la frequenza è e su h numero di Planck perde e scende e n la frequenza scende e quindi il fotone per risalire il campo gravitazionale deve diminuire la propria frequenza aumenta la propria lunghezza d'onda redshift gravitazionale e qui di nuovo Einstein aveva ragione ovviamente i redshift gravitazionali i redshift per masse per campi sono ancora più intensi noi ho preso di nuovo riferimento al sole perché noi abbiamo il sole facciamo la misura sul sole appunto ad esempio dello spettro dell'idrogeno e vediamo questo questa cosa del gravitazionale comunque è una cosa che può dimostrare tanto di tempo sì 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 io ho abbastanza messo in ordine abbastanza non del tutto i cinque che siamo al terzo in ordine cronologico nel senso che la deflessione della luce è del 1919 la precessione l'anomala precessione dell'orbita di Mercurio è di quel periodo lì e il redshift gravitazionale è un po' successivo perché il sole ha un campo relativamente intenso e quindi questa variazione poi non è così ampia Einstein aveva previsto anche che ci dovessero essere le onde gravitazionali come vedremo con le onde gravitazionali nasce una nuova astronomia noi sappiamo per fare un paragone come ho scritto qui che è una carica elettrica che si muove di modo accelerato genera onde elettromagnetiche un'antenna per fare un esempio in un'antenna ci sono cariche elettriche che quando si muovono oscillano e quindi provocano delle onde elettromagnetiche se una massa si muove di modo accelerato genera oscillazioni del campo gravitazionale che si propagano anch'esse alla velocità della luce quello che è importante è che mentre un'onda elettromagnetica si propaga nello spazio-tempo un'onda gravitazionale è una modificazione dello spazio-tempo che si propaga cioè l'onda elettromagnetica si propaga nello spazio-tempo l'onda gravitazionale modifica lo spazio-tempo in cui si sta propagando e quindi il tentativo che è un tentativo molto recente riuscito è quello di misurare la modifica delle dimensioni dello spazio-tempo in cui arrivi un'onda gravitazionale cosa succede quando passa un'onda gravitazionale si modifica la trama dello spazio-tempo vi avevo fatto vedere quella rappresentazione con quella rete per così dire qui lo vediamo in tre dimensioni e non è nemmeno sufficiente perché lo spazio-tempo dovremmo vederlo in quattro ma non abbiamo la capacità di vederlo in quattro cosa vuol dire che quando arriva un'onda vedete quella rossa e quelle frecce storte rosse rappresentano l'arrivo di un'onda gravitazionale che arriva dall'asso dall'alto lo spazio si comporta come un grosso blocco di gelatina lo spazio indisturbato che sarebbe quello nero viene deformato la trama dello spazio come se fosse un tessuto e si allunga da una parte e si restringe dall'altra oscilla vedete il rosso si è allungato in questo verso e si restringe dall'altro poi invece nel blu si trasforma alternativamente quindi si allunga da questo verso e si restringe dall'altro e quindi c'è questa oscillazione il risultato pratico è che le mutue distanze di corpi liberi variano allora noi come facciamo quindi prima aumentano la direzione poi diminuiscono la direzione ortoconale e così via per molte volte come facciamo a vedere la variazione usiamo un interferometro in un interferometro si inviano due facce di luce laser vedete lì è rappresentato un laser che va qua qui c'è uno specchio che scinde il 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 fascio laser che va per una parte da questa parte per l'altra parte nella parte ortogonale poi la luce ritorna si ricombina e va a un rivelatore se i bracci se i bracci non cambiano dimensione quando ritornano al rivelatore c'è una figura di interferenza si dice raccolta da questo fotodetector se il i bracci cambiano dimensione la luce impiega un tempo diverso tra andare da un da una parte all'altra da quest'altra a quell'altra per cui varia la figura di interferenza la variazione è piccolissima più sono lunghi i bracci tanto più grandi saranno le variazioni di lunghezza ovviamente e poi vengono fatte andare avanti e indietro più volte per aumentare la la lunghezza la lunghezza equivalente dei bracci sono stati utilizzati tre interferometri due laigo negli Stati Uniti e uno che è Virgo che è a cascina di Pisa le prime onde gravitazionali sono state captate il 14 settembre del 2015 questa è una foto di uno dei due laigo vedete questi bracci che sono 4 km ciascuno lo stesso Einstein pensava che non potessero essere mai rilevate le onde gravitazionali perché per un problema tecnologico la variazione di questi bracci della lunghezza di questi bracci è dell'ordine della dimensione del protone fate conto che quindi che misure raffinate sono è stato in un'analogia si dice che è come se noi volessimo misurare con il mare piatto fossimo capaci di misurare che il mare alza il proprio livello in tutto globo terraqueo se noi buttassimo tre litri di acqua nel mare questa è la sensibilità di questi strumenti cosa è successo il 14 settembre del 2015 è arrivata l'onda provocata dalla fusione di due buchi neri distanti 1,3 miliardi di anni luce questa onda è durata circa due decimi di secondo vedete questa è 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 secondi è arrivata è stata rilevata dai due laigo qui non era ancora presente Virgo è successo che c'è stata una coalescenza di un buco nero di 36 masse solari con un altro buco nero di 29 masse solari che si sono fusi un unico buco nero di 62 masse solari e hanno irraggiato tre masse solari in energia che è stata trasportata dalle onde gravitazionali e quindi seppur distanti 1,3 miliardi di anni luce tre masse solari in energia E uguale a mc quadra è un'energia spaventosa che noi non siamo nemmeno in grado di concepire nell'istante finale praticamente si è calcolato che i due buchi neri si sono avvicinati a una velocità che era il 60% della velocità della luce cioè è come se viaggiavano a 600 a una velocità relativa di 600 milioni di chilometri all'ora cioè è come se avessero fatto in un quarto d'ora il percorso da qua al sole in due secondi da qua alla luna in tre millisecondi sarebbero arrivati da qua a Roma per dare l'idea della velocità di questi oggetti che nella loro collisione hanno perso tre masse solari che sono andati in energia eppure tutta questa potenza è una potenza di circa 10 alla 22 volte quella che è stata emessa che è la potenza emessa dal sole se considerate che nel nella galassia ci sono circa 10 alla 11 soli questo è 10 alla 22 volte cioè in quel momento c'è stata un'emissione che era dell'ordine di 10 100 miliardi di volte l'energia emessa dalla nostra galassia in toto a oggi sono stati osservati 11 eventi e ne approfondiamo due perché sono due che sono importanti per la storia dell'astronomia uno il 14 agosto del 2017 il 14 agosto del 2017 è stata rilevata la fusione di due buchi neri di circa 30 e 25 masse solari ciascuno uno 30 e l'altro 25 per la prima volta c'è stato anche Virgo che ha lavorato in tandem siccome Virgo non è parallelo ai due laigo ed è lontano rispetto ai due laigo perché appunto i due sono negli Stati Uniti e Virgo è in Italia avendo questo sistema è stato possibile dimostrare la polarizzazione delle onde gravitazionali Einstein aveva previsto che le onde gravitazionali dovessero esserci che dovessero essere polarizzate come avviene per le onde elettromagnetiche sostanzialmente è una diversa la polarizzazione è una diversa distribuzione della direzione di campo cioè indica la direzione di oscillazione del vettore di campo Einstein l'ha prevista e il 14 agosto del 2017 poco più di un anno e mezzo fa questa evidenza è stata dimostrata il secondo evento che andiamo a raccontare è l'evento del 17 agosto 2017 solo tre giorni dopo di nuovo laigo e Virgo e ho messo un video che è fatto bene secondo me non si sente va bene me la racconto questa allora questa è la rappresentazione vedete due stelle di neutroni che ruotano una torna all'altra e collidono è stata osservata per la prima volta anche la luce emessa questo questo evento è durato siccome sono stelle di neutroni e non buchi neri è durato di più è durato circa 100 secondi è stato osservato da Fermi che è un satellite che lavora nei raggi gamma e da Chandra che è un satellite che lavora nei raggi X e anche da telescopi da telescopi visuali questa è stata in questa galassia è avvenuta in questa galassia che dista circa 130 milioni di anni luce da noi e si dice che con allora è sostanzialmente nata l'astronomia multimessaggera nel senso che siamo in grado siamo stati in grado di avere delle informazioni non solo nel campo dell'elettromagnetismo cioè gamma X e visuale ma anche delle onde gravitazionali questo sarà si ritiene il confine della prossima astronomia perché mettendo insieme le informazioni che arrivano dagli interferometri cioè dalle onde gravitazionali e dalle onde elettromagnetiche si potranno avere informazioni nuove precise approfondite rispetto a quanto avevamo finora oltre a questo come ho scritto nel nel sottotitolo così tanto per la detta e si forma l'oro che abbiamo nei nostri monili nel senso che si è attivato questo è Virgo invece che si vedeva è molto simile a Laigo ha i bracci che sono 3 km invece di 4 km si è attivato il cosiddetto eccolo qui Virgo vedete qui si vedono le curve misurate qui sono i e anche Hubble come vi dicevo cioè i telescopi X gamma nell'ottico nello spazio che è Hubble e i telescopi dell'ESO mi pare anche che è sulla Terra qui si è attivato aspettiamo un momentino che finisca questo il cosiddetto processo R cioè nel corso dell'esplosione i neutroni della periferici della stella di neutroni vengono catturati rapidissimamente dai nuclei atomici pesanti che sono sulla superficie della stella di neutroni la stella di neutroni è fatta sostanzialmente di neutroni ma sulla superficie ci sono elementi pesanti quali il ferro sono stati catturati questi neutroni la cattura è così veloce da prevenire il decadimento radioattivo degli isotopi che normalmente è un decadimento velocissimo ma in quelle condizioni di campo appunto si riescono a formare stabilmente elementi pesanti e si è calcolato che la collisione di queste due stelle ha dovrebbe aver prodotto circa 300 masse terrestri di oro quindi pare che sapete che gli elementi che noi abbiamo sulla terra a parte l'idrogeno e l'elio sono elementi che non sono nati con l'universo ma sono stati originati da fasi successive si pensava fino ad oggi che fossero soprattutto dovute la presenza elementi pesanti quali loro in particolare allo scoppio di supernove vicino a noi questo esperimento fa pensare che probabilmente 5 miliardi di anni fa 6 miliardi di anni fa 7 miliardi di anni fa prima che si formasse il sistema solare probabilmente è venuta nella nostra vicinanza la collisione di due stelle di neutroni che hanno dato origine a loro che noi adesso abbiamo qua quindi probabilmente quest'oro che quasi ognuno avrà al polso che potrebbe venire fuori dall'esplosione di stelle di neutroni e vediamo l'ultima l'espansione dell'universo l'espansione dell'universo come vi ho detto Einstein disse che è stato il più grande errore della sua vita perché l'equazione della relatività quelle che abbiamo visto e in particolare il termine di sinistra cioè il termine geometrico con la R e la G producono un universo in espansione cioè dalle equazioni che ha scritto Einstein veniva fuori che l'universo doveva essere in espansione allora si pensava che l'universo fosse stazionario e quindi Einstein che cosa ha fatto? Ha introdotto una costante cosmologica nelle equazioni scritte allora non c'era solo R mu nu come abbiamo visto meno un mezzo G mu nu ma più lambda mu nu per correggere questa faccenda che l'universo che dall'equazione venisse fuori che l'universo stava espandendo cioè dalle equazioni si deduceva questo Einstein ha pensato vabbè le equazioni hanno un errore lo posso correggere mettendo una costante rendo l'universo stazionario così non era come sappiamo perché nel 1929 Hubble scoprì appunto lo spostamento verso il rosso di cui si citava prima delle galassie che è proporzionale alla distanza delle galassie qui di nuovo una rappresentazione bidimensionale come se noi avessimo qua l'universo che si sta espandendo vedete qua ci sono le galassie l'universo si espande e le galassie si allontanano l'una dall'altra tutte l'una dall'altra Hubble con le sue misure aveva scoperto questo intorno a quegli anni Einstein ne ha ne ha preso contezza e appunto disse che quello fu il più grande errore della sua vita e dall'equazione è stata ovviamente tolta la costante cosmologica che lui aveva inserito in maniera posticcia questo come parentesi dà l'idea come avevo un po' raccontato cinque anni fa di quanto anche le menti più alte risentono comunque del loro tempo Einstein erano delle menti più alte e meno conformiste se vogliamo che c'erano eppure quando ha scoperto quando ha trovato che le sue equazioni rendevano l'universo non stazionario non ci ha creduto e ha aggiunto questa costante e qui ci abbiamo verso la fine avevo scritto questa cosa e dico è ora è domani si sta lavorando da molti decenni all'unione tra la teoria della relatività e la teoria dei quanti la cosiddetta teoria della gravità quantistica la gravità per quel che ne sappiamo è un fenomeno universale che agisce su ogni corpo dotato di massa e altrettanto universale è l'intrinseca natura quantistica della materia e della radiazione la separazione tra gli ambiti della relatività generale e della meccanica quantistica e della fisica quantistica noi diciamo deve essere solo apparente cioè deve esistere di fatto un'unica realtà che si estende dal microcosmo al macrocosmo quindi i fenomeni naturali presi nella loro totalità non possono obbedire a due serie di leggi fisiche differenti e per certi versi in reciproca contraddizione per cui si sta lavorando a un'unica teoria ma non si sta riuscendo a trovare quest'unica teoria ma e qui mi avviano una cosa ma è davvero così io mi chiedo cioè in quel deve essere la separazione degli ambiti deve essere solo apparente perché nel fatto c'è un'unica realtà deve può stare però la supponenza di noi uomini cioè deve esistere di fatto un'unica realtà Hawking in una sua lezione che ha tenuto all'università di Cambridge una serie di lezioni insieme con Penrose ha detto questa situazione non può corrispondere a realtà a me io non chiedo che una teoria corrisponde alla realtà perché non so quale sia questa realtà la realtà non è una qualità che si possa verificare con una cartina al tornasole quel che mi interessa è che la teoria predica i risultati di misurazioni è più strano di quanto pensiamo è persino più strano di quanto possiamo pensare quindi se qualcosa vi è sembrato complicato o strano consolatevi perché siete in buona compagnia ho finito grazie a tutti grazie a tutti